Buonasera a tutti, io sono Carolina, la figlia di Alberto Castagna. Purtroppo anche questa volta non ce l'ho fatta a raggiungervi in Puglia, ma ci tenevo comunque a mandarvi un saluto, seppur virtuale diciamo. Per prima cosa vorrei ringraziare chi da anni ormai si occupa dell'organizzazione della Palma d'Oro Mesagnese, un evento che è portato avanti dalla Proloco di Mesagne e da alcune persone che ci tengo a ringraziare personalmente, come Teresa Pastorelli, Maurizio Piro e ovviamente il sindaco di Mesagne, Pompeo Molfetta. Ci tenevo poi a fare i miei complimenti a chi quest'anno si è giudicato il premio Castagna, la cultura delle arti, della comunicazione e dello spettacolo che ha Vincenzo Sardiello. A Vincenzo auguro il meglio professionalmente e faccio un grandissimo in bocca al lupo. Vi ringrazio ancora tutti e vi auguro di trascorrere una serata meravigliosa, ma so già che lo farete. Un abbraccio, ciao!